L'annuncio era di quelli attesi, ma a vuoi mettere, l'ufficializzazione ha sempre un altro fascino. A dare l'annuncio è stato il sindaco Giosi Ferrandino prima e il diretto interessato poi, attraverso quel consolidato strumento dei canali social. Massimiliano Fuxas, archistar di fama internazionale, ha accettato l'incarico suggestivo e nel contempo prestigioso di ridisegnare una casa micciola che negli ultimi anni è stata letteralmente sfregiata dal terremoto del 2017 prima e dall'alluvione del 2022 poi. E le parole sul profilo Facebook che condivide con la moglie Doriana Orietta Mandrelli devono suonare come parole al miele per la comunità termale. Il mio obiettivo, dice, è cambiare il destino di casa micciola, un luogo che, nonostante le grandi catastrofi che l'hanno colpito, resta ancora bellissimo. L'architetto ottantenne è dunque già al lavoro per progettare la riqualificazione e rigenerazione del territorio dopo essere stato in visita sull'isola due giorni a gennaio. Fuxas, che tra l'altro vanta un'amicizia di lungo corso con il commissario straordinario Giovanni Legnini, non ha dubbi sul fatto che riuscirà nel suo intento e tesse una volta di più le lodi della nostra isola. A casa micciola spiega c'è bellezza diffusa con tanti immobili di pregio architettonico che intendo valorizzare e inserire adeguatamente nel mio progetto. Penso ad esempio al complesso del Pio Monte della Misericordia che nonostante i tanti anni di abbandono resta bello forse più dello stesso albergo dei poveri a Napoli e merita di essere recuperato e rilanciato, così come andrà rilanciato anche l'enorme patrimonio termale di cui questo comune da sempre dispone. L'investitura ha rispettato la canonica Prassi con la determina di incarico. In bocca al lupo e buon lavoro allora. Casa Micciola si aspetta tanto.